E' stata una grave perdita per la città e per tutti noi, quindi lo ricordiamo con molta ammirazione. Perché comunque il suo libro è diventato anche un film, insomma un personaggio anche di un certo rilievo, che comunque fa abbastanza lustro all'Italia, ecco. In questo momento in cui di lustro non ce n'è più, perlomeno. Ho avuto la fortuna di averlo conosciuto, era una persona squisita. E' indubbiamente un grande umanista, diciamo moderno, quindi affrontato tutto lo scibile umano della cultura, quindi dalla semiottica all'antropologia, alla filosofia, alla letteratura. Quindi è stato indubbiamente un grande protagonista della cultura moderna. Un'icona di Alessandria che se ne va. Riguarderemo i suoi film e rileggeremo i suoi libri. Rimane comunque una pietra migliare della cultura. E' stato un personaggio importante per la città, per l'Italia e anche per il mondo. Quanto mancherà un personaggio come Umberto Eco? Tantissimo, tantissimo. È un personaggio importante per Alessandria, anche per l'Italia e per il mondo. L'ho anche conosciuto, io sono un'adoratrice dei suoi primi libri. Gli ultimi ho fatto un po' più fatica a comprenderli. In che occasione ha conosciuto Umberto Eco? Amici di Alessandria che lo conoscevano, quindi a Milano sono andata a restituire dei libri che aveva prestato. e quindi ho avuto modo di vedere la sua casa di Milano. Sono rimasta affascinata dalla sua libreria. Un personaggio meraviglioso, ho letto tanti dei suoi libri e mi spiace moltissimo.